A trascorso le festività natalizze in libertà il killer di Perina, la 78enne uccisa a Rimini il 3 ottobre scorso, gli inquirenti a distanza di tre mesi non sono ancora riusciti a dare un volto all'assassino della pensionata. Non ci sono indagati, ma solo sospettati, contornati da rumors, intrighi amorosi e litigi tra dirimpettai. Ad oggi le ipotesi investigative parlerebbero di un uomo di colore per due ragionevoli elementi. Il primo perché gli agenti della squadra mobile hanno effettuato le simulazioni di un possibile percorso di fuga intrapreso dal killer utilizzando proprio un figurante di origine africana. Il secondo perché ai residenti del grande condominio di Via del Ciclamino, sentiti assitti in questura, è stata posta una chiara domanda se nella loro scalinata abitasse o fosse comunque frequentata da un cittadino di colore. Se così fosse, il cerchio dei principali sospettati si restringerebbe ad uno solo dei quattro protagonisti del giallo di Rimini, ovvero Luis, marito di Valeria dal 2018 ed ex amante di Manuela. Nel caso venisse accertata, quest'ultima ipotesi verrebbe anche avvalorata dalle risultanze della perizia medico-legale che ha stabilito, in base al traiettore delle prime coltellate inferte sul corpo di Pierina, che il killer sia una persona molto più alta del metro e ottanta. E di certo sappiamo che Luis supera un metro e novanta di altezza, ma chi conosce bene il senegalese si dice pronto a difenderlo. Luis è un bravo ragazzo, il lavoratore è venuto a lavorare di sabato e di domenica, non lo vedo proprio il tipo di fare un sindaco, sindaco. Però pare che avesse questa storia con Manuela e Luis. Ma sì, ma sì, per una storia così di prendere. Perché? Perché poi che interesse aveva di prendersela con la madre, di Giuliano, scusi, la suocera di Manuela. Il marito è stato pure pronto a perdonarla. Insomma, se la poteva prendere con questa Pierina, questo ragazzo. Per carità, loro sono consapevoli che c'è stata questa relazione con noi, che noi non lo sapevamo. Però... E intanto, nelle ultime settimane, si fa strada alla tesi che sulla scena del crimine sia intervenuta una quinta persona, magari proprio quel ragazzo di colore, amico di Luis e Valeria, e che più volte è stato visto in via del ciclamino, in compagnia dei due coniugi. Grazie a tutti.